Henry d'Inghilterra e la sua amata moglie Meghan Markle pensate che hanno deciso di recarsi in America Latina, in America del Sud, toccando uno dei suoi paesi forse molto più belli, che è proprio la Colombia, non da turisti, non per visitare le bellezze del luogo, meglio della nazione, ma bensì per partecipare ad un evento relativo al sagarbullismo, cioè a quel bullismo che purtroppo è molto presente, molto radicato e molto palese nel web, su internet, dove ancora ad oggi molte persone si divertono a creare falsi profili, insultare, diffamare e via riserviamo. Ricordo a tutti infatti che proprio la diffamazione è un reato vero e proprio, nonostante infatti una persona dica una cosa falsa, o meno una cosa vera, su una persona, che magari è un truffatore o una truffatrice, quello è sempre una forma di infamazione, va bene? E non è una cosa di cui spezzare. Bene, iscrivetevi, scrivetevi alla commentazione.